ciao a tutti oggi proverò a insegnarvi come si realizza un cavo di rete dunque cavi di rete questi qua già fatti che tutti quanti utilizzate perché si usano per connettere il computer al modem il decoder di sky la centrale d'allarme lo switch del citofono ip insomma ormai il cavo di rete è utilizzato in tantissime situazioni noi siamo abituati ad averlo a comprarlo e a maneggiarlo già fatto quindi già pronto in varie misure con i connettori in testa e in fondo e non ci siamo mai preoccupati del fatto che un cavo di rete per diversi motivi può non essere utilizzabile già fatto ma va fatto tra virgolette su misura questo perché ad esempio quando si predispone un impianto elettrico la parte dati che quindi ha le sue tubazioni che dovrebbe avere le sue tubazioni non può a meno che non venga usato un tubo bello grosso non può far passare un cavo di rete già intestato intestato vuol dire già coi connettori ma comunque non è tecnicamente giusto perché all'uscita dalla vostro telaio 503 o quello che sia avreste un foro o comunque magari la mancanza di un tappo è il cavo che esce e spunta fuori non è il modo più corretto di fare una rete dati che sia una casa o in ufficio ma si mette il cavo diciamo non intestato quindi cavo che finisce senza connettore si fa girare per l'impianto e poi si monta il frutto femmina dove andrete ad attaccare questo cavo ma non è il discorso di oggi invece tante volte non si usa questo sistema ma per varie tipologie di installazione sia il cavo diretto dalla periferica al dispositivo principale viene fatto passare intubazioni canaline quello che sia diciamo nudo e poi bisogna intestarlo da una parte dall'altra mettere il connettore o semplicemente abbiamo bisogno di realizzare un cavo su misura quindi bisogna comprare il cavo tagliarlo della misura giusta e mettere i due connettori un'operazione che viene fatta ad esempio anche quando si installano le antenne dai provider senza fili o come dicevo all'inizio i video citofoni di nuova generazione viaggiano su cavo di rete se sono video citofoni ip quindi bisogna far passare un cavo di rete dal posto esterno al posto dove ci sarà lo switch router e tutto il resto poi si intesta si mette il connettore all'inizio alla fine tantissime situazioni dove può essere necessario imparare a intestare i cavi di rete e tra poco vi faccio vedere due modi per farlo uno tradizionale più complicato e uno ve lo dico subito molto molto semplice alla portata proprio praticamente di tutti ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale prima è opportuno fare una spiegazione sulle varie tipologie di cavi e di schemi di di fili eccetera eccetera partendo dalla distinzione tra un cavo dritto e un cavo incrociato allora un cavo dritto è quello che usate ovunque si usa per connettere i computer i dispositivi le stampanti da mettere in rete videocamere citofonia eccetera si fa tutta col cavo dritto quindi la connessione che abbiamo da una parte c'è anche dall'altra uguale stesso schema esiste anche il cavo incrociato che si usa praticamente mai non si usa più però in alcune situazioni può servire ad esempio serve per connettere un computer a un altro computer magari non l'avete mai fatto e non sapete che si può fare ma si può fare perché verosimilmente un computer potrebbe avere l'accesso a internet wifi allora si può collegare via cavo un computer con un altro computer e condividere sia la connessione dati che ovviamente lo scambio di file informazioni eccetera per collegare da pc a pc si usa il cavo incrociato che poi praticamente alla fine ha solo due coppie di fili incrociate come posizione perché dico coppie di fili perché è un cavo di rete sostanzialmente all'interno di qualsiasi tipo sia ha quattro coppie di fili twistati arrotolatoi chiamateli come volete ed è fatto in questo modo c'è sempre un verde bianco verde un marrone bianco marrone un arancio un bianco arancione un blu e un bianco blu a loro volta ci sono poi diversi tipi di cavo sostanzialmente le due diciamo grosse categorie che vengono utilizzate sono il cavo utp e il cavo ftp il cavo utp e il cavo non schermato il cavo ftp e il cavo schermato vuol dire che il cavo utp ha i quattro doppini all'interno e basta e lo riconoscete perché ha il connettore tutto in plastica mentre il cavo ftp lo riconoscete perché ha il connettore con una parte metallica vedete questo perché dentro il cavo intorno ai fili c'è una schermatura un avvolgimento che serve ad attenuare i disturbi ma ve lo faccio vedere dal vivo cavo in plastica più metallo perché la parte in metallo va a toccare sul connettore femmina dove entra e va a scaricare diciamo le interferenze che trattiene la schermatura una volta tolta la guaina di plastica abbiamo la schermatura questa specie di pellicola in alluminio che avvolge i cavi e in più abbiamo questa specie di filo di schermo poi sotto abbiamo ancora un isolamento e le quattro coppie di conduttori questo è un cavo schermato in realtà poi esiste ancora un terzo tipo di cavo che il cavo stp dove ogni doppino quindi ogni coppia di conduttori ha una sua schermatura ma è un'applicazione molto più difficile da trovare quelle che troviamo più comunemente sono le due che abbiamo visto e quello che viene usato per la maggiore cavo utp senza schermatura il cavo con la schermatura è richiesto solo in alcune applicazioni abbiamo poi un'altra divisione molto importante che sono le categorie dei cavi i cavi che attualmente vengono usati per la maggiore sono categoria 5 e categoria 6 dove in realtà categoria 5 non esiste più ma c'è il 5e e a sua volta categoria 6 esiste anche nella versione 6e il cavo categoria 5e riesce a garantire una velocità fino a un gigabit per secondo mentre il cavo categoria 6 e 6e arrivano fino a velocità di 10 gigabit per secondo differenza sostanziale tra i due tipi di cave che sono i più usati è la differenza di banda che riescono a supportare la differenza sostanziale che è un cavo categoria 5 va benissimo oggi come oggi ma il categoria 6 sta prendendo diciamo il sopravvento perché la differenza a livello di costi ed utilizzo non è così importante ma con un categoria 6 diciamo che realizzando una rete con quei cavi siamo già predisposti per velocità future che magari ancora non ne abbiamo inoltre categoria 6 ha una struttura un po più rigida e in alcune situazioni ad esempio quando bisogna tirarlo è anche molto più resistente del categoria 5 vi faccio vedere la differenza strutturale interna che è praticamente solo quella di un separatore interno di plastica tra i quattro conduttori vedete questo è il nostro categoria 5 di prima con i conduttori messi tutti insieme dentro la guaina è un cavo leggermente più piccolo e molto molto più flessibile anche se si rischia di pizzicarlo e non resiste tanto al tiro come il categoria 6 che è questo vedete che all'interno le quattro coppie di fili sono separate da quest'anima di plastica interna se io li divido vedete abbiamo sempre le quattro coppie ma con questo separatore fatto a croce che aiuta ad aumentare la velocità e la frequenza il cavo inoltre è diverso anche come conduttore è molto più rigido ora dopo tutte queste considerazioni vi farò vedere delle prove sia con un 5 che con un 6 e vi spiego le differenze di crimpatura dei connettori rispetto alle tecnologie che abbiamo oggi o quelle che avevamo fino a poco tempo fa leggermente più complesse io i cavi di rete li ho sempre fatti alla vecchia maniera da 20 anni senza nessun problema e sono sempre stato molto bravo a farli ma è una cosa che bisogna fare con attenzione con dedizione con molta precisione perché altrimenti non funzionano adesso vi spiego un attimo le differenze dunque quando dobbiamo fare un cavo abbiamo bisogno dei connettori questi sono un modello tradizionale per cavo categoria 5 in questo caso o questi sono gli stessi connettori però in versione schermata poi una volta messo il connettore andrebbe anche messo il gommino di protezione alla fine del lavoro adesso vi faccio vedere il metodo tradizionale che si usava una volta in pratica bisognava spelare il cavo tramite forbice in base a come uno è abituato oppure tramite la pinza le pinze sono delle pinze dedicate che servono a effettuare il taglio del cavo la spelatura corretta ad una certa misura e a effettuare il crimpaggio diciamo la pinzata del connettore si procedeva in questo modo o almeno io facevo così si tagliava il cavo bello dritto poi si procedeva andando a prendere il cavo nella fessura un po più larga in realtà le pinze dovrebbero già avere una misura preimpostata per sguainarlo alla misura corretta ma per farli bene nella realtà dei fatti era una cosa che io sistemavo poi a mano quindi si procedeva a sguainare il cavo un po più lungo in questo modo poi bisogna eliminare questo coi pelucchi che da sempre fastidio e poi i cavi vanno messi in un certo ordine ci sono sostanzialmente due standard per crimpare i cavi che sono il tipo a e il tipo b non cambia assolutamente nulla a livello di funzionamento da uno all'altro sono semplicemente due abitudini di mettere i fili nel connettore che cambiano da nazione a nazione da continente a continente da regione a regione da provincia a provincia anche in italia io parlo con gente che fa solo tipo a gente che fa solo tipo b non cambia assolutamente niente l'importante è che quello che fate da un lato lo fate anche dall'altro e che eventualmente tutta la rete tutto l'ambiente sia fatto lo stesso modo io personalmente utilizzo il tipo b il tipo b è una disposizione di fili ben determinata fatta in questo modo bianco arancio arancio bianco verde blu bianco blu verde bianco marrone marrone si rispetta questa posizione ora vi faccio vedere come rispetto al connettore quindi bianco arancio arancio vuol dire che prendiamo il bianco arancio e l'arancio e li apriamo in questo modo poi c'è il bianco verde quindi prendiamo il bianco verde dopo il bianco verde non c'è il verde che il suo successore naturale come disposizione interna ma mettiamo il blu mettiamo da parte verde e ci mettiamo il blu dopo il blu c'è il bianco blu poi torna il verde poi c'è il bianco marrone e il marrone questa è la posizione corretta ora questi cavi per essere messi correttamente vanno stesi sistemati in questo modo controllando di avere sempre la stessa disposizione vedete che già mi si è spostato il bianco arancio quindi controlliamo bianco arancio arancio bianco verde blu bianco blu verde bianco marrone marrone questa è la posizione corretta ora cosa succede che i cavi sono tutti un po spagliati perché le abbiamo stesi e vanno inoltre messi nel connettore fino in fondo il più dritto possibile ma c'è anche da dire che questa parte del connettore deve schiacciare la guaina quindi non si può fare un cavo che una volta chiuso rimane una roba del genere ci va la misura giusta la misura giusta viene data dalle pinze più o meno professionali più o meno precisa ma per farli alla vecchia maniera io mi sono sempre regolato d'occhio guardavo che la guaina arrivasse a prendere la parte da schiacciare e prendevo la misura di dove tagliare i cavi per tagliare i conduttori bisognerebbe usare questa lama qua che però col dito non è mai facile quindi io ho sempre usato delle ottime forbici nuove o semi nuove dedicate solo ai cavi di rete tipo le f1 limited edition tagliavo il cavo in modo netto ricontrollavo di avere i conduttori nell'ordine giusto e li mettevo dentro il connettore in questo modo da qua si riesce a guardare che siano rimasti nella posizione corretta e poi bisogna spingerli bene fino in fondo controllare che arrivino fino in punta tutti quanti perché altrimenti la parte dorata quando viene schiacciata non va a toccare il filo e dopo aver verificato tutte queste condizioni si può mettere il connettore nella pinza e si preme con energia si libera il connettore si tira fuori e si ricontrolla la posizione di tutti i fili ora lo crimpo anche dall'altra parte ok in questo modo io ho realizzato ho intestato anzi un cavo di rete in modo perfetto prendendo perfettamente la guaina non ho messo anche la parte in plastica di copertura che è solo una finitura estetica non ha nessuna funzionalità effettiva se non quella di proteggere un po il cavo in uscita con questa sorta di supporto ma un cavo comunque realizzato in questo modo è fatto bene perché spesso capita di vedere cavi con i conduttori che escono fuori che è poi l'errore più comune ma soprattutto chi non è pratico a fare questa operazione che non è proprio semplice comunque ci va un po di esperienza adesso sicuramente qualcuno scriverà nei commenti che non la faccio nel modo corretto ma io sono vent'anni che li faccio così non ho mai avuto problemi e ho sempre fatto la misura a occhio non mi sono mai fidato delle pinze perché tante volte non bastava cosa succedeva che il conduttore non arrivava fino in fondo e poi il cavo non funziona ma come faccio a sapere se il cavo funziona se l'ho fatto giusto la prova diciamo di metterlo di collegare vedere se funziona ok va bene ma esistono dei tester per testare i cavi una volta che vengono intestati vanno benissimo anche i tester diciamo economici da 10 20 euro come funzionano si mette un capo del cavo nel tester l'altro capo nel ricevitore vedete che qua ci sono dei led quando io accendo il tester vedete che mi si accende il led 1 e mi si accende anche da questa parte quindi vuol dire che il collegamento del filo alla posizione 1 è effettuato correttamente lo sto facendo con un pezzo di cavetto in mano ma immaginate di avere il tester da una parte dell'ufficio della casa e il ricevitore dall'altra se abbiamo tutto a vista possiamo controllare i cavi uno alla volta vedete gnd che lo schermo ovviamente essendo un cavo utp non c'è vedete che la g c'è di qua e di qua no e poi ripartiamo se le posizioni ci sono tutte e soprattutto sono corrette quindi uno con uno due con due tre con tre eccetera il cavo è a posto se non avete modo di vederli contemporaneamente si mette in automatico quindi lasciate il tester che da una parte fa la sequenza e dall'altra controllate che ci siano tutti questo è un tester economico ma comunque già affidabile per testare i cavi ovviamente ci sono prodotti più professionali che vi danno la lunghezza del cavo la frequenza l'impedenza il disturbo un sacco di valori che sono utilissimi in certe installazioni ma per controllare un cavo di rete solo se è a posto basta già una cosa del genere se i connettori non li avessi crimpati in modo corretto magari perché un filo era corto non mi dava la continuità o magari perché avevo sbagliato a metterli me li avrebbe segnati incrociati dispongo anche di un tester un po' più serio dell'ht che funziona in questo modo bisogna accendere il dispositivo scegliere se il cavo deve essere stp con lo schermo o utp senza si mette il cavo nel trasmettitore e il cavo nel ricevitore si fa partire con go lui fa la misurazione e mi dice se il cavo ok poi in questo caso mi dice che l'alletto sull'unità 1 che è il ricevitore ch1 ne ho poi altri perché magari con un da una sola postazione possiamo testare tanti cavi provando a fare una prova con cavo stp con lo schermo che invece non c'è mi dice giustamente che dà errore perché lo schermo non è presente vi ho spiegato le differenze tra i cavi come mettere bene i fili diciamo nella posizione e le problematiche che possono esserci nel connettore con i fili per riuscire a farlo come si deve questo fino a ieri perché da un po' di tempo adesso non è una cosa che è appena uscita ma c'è già da un po' hanno inventato le pinze e i connettori dedicati che sono passanti passanti cosa vuol dire vuol dire che una volta sguainato il cavo quindi con le coppie di fili a vista dopo averle srotolate e distese le andiamo a infilare dentro il connettore con i fili che passano tutto il connettore che escono oltre il connettore in modo da vederli uscire proprio giusti per essere sicuri una volta crimpato il connettore la pinza automaticamente taglierà i conduttori a filo e saremo sicuri che sono arrivati nella posizione corretta e che li abbiamo messi giusti perché li abbiamo visti bene uscire è un modo di intestare i cavi molto più semplice che anche i professionisti ormai usano perché magari fanno fare i cavi ai dipendenti che non sono così bravi non hanno così tanta esperienza nel crimparli con il metodo diciamo tradizionale ma che a mia volta vi propongo perché secondo me è un metodo che ha la portata di tutti per il fai da te e per farsi i propri cavi di rete o le proprie reti lan senza avere chissà quale esperienza una pinza che ho comprato su amazon vi lascio il link in descrizione e che costa lei circa 37 38 euro non è un investimento eccessivo ma vi faccio vedere come rende semplice la vita del cablatore di reti se vogliamo pinza marca vce con i suoi connettori dedicati perché a differenza di queste dove potevi comprare connettori che volevi se utilizziamo questa pinza con i connettori passanti è bene prendere i suoi connettori passanti questo per una pinza diciamo da fai da te come questa che va benissimo ma anche per una pinza di livello più alto di uso molto più professionale tiriamo fuori la pinza dalla confezione notiamo subito che danno anche delle lame di ricambio perché le lame a forza di usarle si consumano poi chiaro che prima di consumare le lame ne dovete fare di cavie pinza che si presenta in questo modo a un blocco che va rilasciato premendo questo pulsantino dietro quindi si chiude si preme il pulsante la pinza è sbloccata ha una parte per tagliare il cavo una parte per sguainarlo e la parte del connettore passante vedete che la particolarità è che una volta messo il connettore escono i fili dall'altra parte quando andremo a fare la crimpatura questa lama andrà a effettuare anche il taglio dei fili quindi qui davanti fa la chiusura della guaina sul dentino di tenuta lì dentro va a chiudere il pettine ai contatti sui conduttori e dietro la lama taglia come si usa apriamo la busta di connettori calcolate che una busta come questa da 50 connettori per cavo categoria 6 costa sui 16 euro i costi sono leggermente più alti rispetto al metodo tradizionale ma c'è tutto un beneficio dietro questi sono i connettori passanti vedete che il connettore è aperto anche davanti ci sono addirittura le istruzioni per come effettuare il lavoro ma vi farò vedere che è ancora molto più semplice di quello che viene scritto ci procuriamo quindi la pinza due connettori il cavo categoria 6 questa volta tagliamo quindi lo facciamo passare qui dove c'è scritto cat possiamo tagliarlo benissimo anche con le forbici dopodiché dove c'è scritto strip lo sguainiamo lo sguainiamo a circa 2-3 centimetri tipo così facciamo fare qualche giro al cavo viene perfettamente sguainato senza intaccare i conduttori sotto ci liberiamo del filino che da sempre fastidio bisogna anche qui a mano aprire i fili questo è sempre da fare e bisogna eliminare anche il separatore interno apriamo le coppie di fili e come prima andiamo a disporli nell'ordine corretto che è bianco arancio arancio bianco verde blu vedete che il cavo categoria 6 essendo un po più rigido rimane più arrotolato conviene stendere un po bene i fili ma questa è una cosa che riesce a fare chiunque benissimo con un po di calma bianco arancio bianco verde blu bianco blu verde bianco marrone marrone li avviciniamo un pelino e li mettiamo già nel connettore in questo modo vedete che escono quindi abbiamo tutto il tempo di ricontrollarli bianco arancio arancio bianco verde blu bianco blu verde bianco marrone marrone da lì loro non si sposteranno più mandiamo il cavo dentro fin tanto che basta a prendere il dentino che lo preme così va bene lo infiliamo bene dentro fin quando la plastica arriva contro imbattuta dalla parte diciamo dove c'è più spazio ci va la linguetta e premiamo con energia ok vedete che sono caduti i fili perché lui li ha tagliati vedete che la taglierina è andata contro e ha tagliato tiriamo fuori il nostro connettore vedete che i fili sono arrivati fino in fondo per forza perché si vedono spuntare ma lui li taglia a pelo quindi non avranno problemi di cortocircuiti o di funzionamento e il cavo è perfettamente crimpato lo facciamo di nuovo anche dall'altra parte quindi gli diamo una bella tagliata lo sguainiamo di nuovo anche un po più lungo lo tiriamo via eliminiamo il filino vedete che il blu è venuto un po più corto perché prima l'avevo tirato quindi lo sguaino ancora un po' ritagliamo il filino tiriamo fuori i cavi tagliamo la struttura interna li stendiamo bene di nuovo attenzione solo quando li stendete a non piegarli troppo perché potrebbe spezzarsi il conduttore all'interno per stenderli potete eventualmente aiutarvi con un manico di cacciavite ma sempre facendo attenzione a non esagerare quando sono belli stesi li rimettiamo in posizione li taglio un attimo uguali per infilarli nel connettore bianco arancio bianco verde blu bianco blu verde bianco marrone marrone riprendo il connettore se avete difficoltà a farli entrare conviene dargli una tagliata con il cutter in modo da farli venire bene dritti perché loro devono entrare così liberamente quindi se tendono a puntare e perché magari si sono leggermente piegati in punta devono stare belli dritti così controlliamo i colori bianco arancio arancio bianco verde blu bianco blu verde bianco marrone marrone il cavo è a posto lo portiamo a misura lo inseriamo dentro in questo modo quindi con la linguetta sempre verso l'alto finché va dentro in battuta e premiamo con forza vedete che taglia i fili esce cavo pronto funzionerà test tradizionale 1 2 3 4 5 6 7 8 ok proviamo anche con l'ht accensione cavo utp go cavo ok è chiaro bisogna sempre prendere un po di dimestichezza con l'apertura dei fili ma il fatto che possiamo vederli uscire dal connettore vi garantisco che è veramente molto molto più intuitivo perché li vediamo uscire vederli dentro il connettore adesso non riesco a darvi l'idea nel video ma è molto più difficile io non ho mai avuto problemi ci vedo benissimo esperienza ne olio sempre fatti ok ma per chi ha le prime armi o per chi magari proprio non riesce perché ci sono certe cose che non riesce a fare o per chi a livello di fai da te vuole farsi i cavi a casa vuole imparare a farli questo è il modo ad oggi più semplice per realizzarli se no ovviamente dovete comprarli già fatti nella misura che vi serve spero di essere riuscito nel mio intento sia di spiegare in modo semplice come effettuare queste procedure cerco sempre nei miei tutorial di farlo magari non sempre ci riesco se ci sono riuscito il video vi è piaciuto vi chiedo un bel like iscrivetevi al canale troverete tutti i link nel canale telegram dove metto la pinza i connettori e tutto quello che può servire o nella mia pagina amazon massidattoli techsolution io vi ringrazio tantissimo ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì ciao da massidattoli ciao 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 ciao